Era quello odierno il primo giorno utile per la presentazione in tutta Italia delle domande relative al reddito di cittadinanza. Caffè, sportelli postali, luoghi dove potersi recare per compilare il questionario. Ma a gubbio le temute file non ci sono state. Alla posta di via Cairoli era presente anche un agente del servizio di vigilanza. Nel caso ci fosse stata Ressa, di fatto, alle 10.30 di mattina, erano solo 6 le persone allo sportello. Stessa situazione al Caff Cisle, presso il centro direzionale della Madonna del Prato, dove alle ore 10 la giornata era più che mai ordinaria. Di poche persone e di quelle presenti nessuna infila per il reddito di cittadinanza. Qui c'è però una motivazione. Il Caff lavora per appuntamento ed ha indicato come data utile per iscriversi quella dal 12 marzo in poi, considerando che c'è tempo fino al 30 marzo per percepire il reddito da maggio. Ad oggi sono 30 le prenotazioni pervenute, ma la sensazione qui è che le richieste saranno molte di più e la calma piatta di oggi è solo apparente. A chiedere informazioni e quindi chiedere l'elaborazione della domanda credo di sì. Visto il numero di ISE che abbiamo elaborato fino ad oggi, perché tutte queste ISE probabilmente rispetto agli altri anni ci aspettiamo che comunque parecchie persone hanno bisogno di questa ISE per poi chiedere questo reddito di cittadinanza. Dire quanti saranno a richiedere il reddito ad oggi è impossibile, ci si può basare solo sulle richieste di certificazioni ISEE rilasciate sinora, perché per presentare la domanda bisogna possedere questo documento che attesti un reddito massimo di 9.360 euro per le famiglie e 6.000 per persona sola. Un calcolo rapido ci consente di fare una stima partendo dal fatto che il CAF di Gubbio dal 20 gennaio ad oggi ha prodotto in media 15 certificazioni ISEE al giorno, che su 30 giorni lavorativi fa circa 450 ISEE. Gli utenti che si sono rivolti al CAF sono italiani quanto stranieri, a quest'ultimi viene richiesta una residenza in Italia da 10 anni, non sono mancati i giovani. I CAF, come le poste, non hanno alcun strumento di controllo sulla domanda, che di fatto è un'autocertificazione. Noi, spiega Antonella, siamo solo postini dello Stato, quindi presentare la domanda non equivale automaticamente ad ottenere il reddito. Prima c'è la scrematura IMS. È un questionario, quindi il reddito di cittadinanza è un questionario. Noi rivolgiamo la domanda al cliente, all'interessato. L'interessato, che deve essere lui presente perché deve firmarla, in quanto è un'autocertificazione, quindi la firma, è chiaro, essendo un'autocertificazione risponde di tutte le conseguenze. Praticamente, porgiamo la domanda al contribuente e lui ci dà una risposta. In base a quella risposta noi compiliamo la domanda. Intanto è che, essendo un'autocertificazione, alla fine dichiaro di essere a conoscenza di tutte le responsabilità. E l'autocertificazione presuppone che si dice qualcosa che non sia rispondente a verità? È un risponde del penale, il contribuente sa benissimo che risponde del penale.